Io sono con il Pride perché ci sono sempre stata, perché è una bellissima festa, una festa in cui, ahimè ancora in Italia, si chiedono anche a gran voce, in modo pacifico, civile, dei diritti che in altri paesi, devo dire, sono acquisiti. Quindi quello che mi piacerebbe è continuare ad essere al Pride senza dover chiedere più niente, semplicemente per partecipare a una bella festa. Io sono con il Pride, siatelo anche voi e siateci anche voi il 9 giugno a Bologna e bisogna andare, bisogna esserci, ne vale la pena. Grazie a tutti.